vota e fai votare Cettola Qualunque questo è il buono benzina offerto da Cettola Qualunque fate il pieno di democrazia 10 euro ce ne mette il vostro candidato votate il Cettola Qualunque, il vostro sindaco va bene, avanti fate il pieno di democrazia vuozia, vuozia oh melo guarda come sei maschio senza casca i capelli al vento sono più sinceri aiutami a distribuire altri buoni benzina la parola elettorale, diamo la parola al candidato sindaco, desatis cari amici di marina di sopra nelle prossime elezioni comunali pare abbia deciso di candidarsi un concittadino ben noto alle cronache locali a questo candidato come dire poco eccellente vorrei semplicemente porre alcune pacate domande e ancora vorrei sapere signorla qualunque, la latitanza ha fatto di lei un uomo migliore chi sono i loschi figuri che frequenta e in che rapporti è con loro la donna che lo accompagna e forse è la sua concubina ora basta, va ho due coglioni che manacciano la secessione Pino, chiamala tipografia allora, ho in mente una risposta da dare a Desantis presto che non me la voglio dimenticare pronto, chi ha la tipografia? è un momento allora, ti hai detto il testo? si Desantis Desantis e io non voglio sentire storie deve essere promosso a tutti i costi che non mi sono